Primo giorno di lavoro per il nuovo premier israeliano, Naftali Bennett, dopo la fiducia risicata ottenuta in Parlamento. L'esponente della destra israeliana guida un esecutivo variegato e inedito, che comprende anche i deputati arabi e per la prima volta da 12 anni e senza il premier uscente Netanyahu. Quest'ultimo guiderà l'opposizione con un solo obiettivo dichiarato, quello di far cadere il prima possibile il governo, che ha definito pericoloso e di sinistra. Secondo la politologa Gail Talshir, c'è da attendersi molte pressioni internazionali, tanto da parte dell'amministrazione Biden quanto da parte dell'Unione Europea, dato che il capo del governo ha finora sostenuto l'espansione delle colonie, un tema che non trova un'intesa nella coalizione. Il governo, dice la politologa, dovrà cercare diplomaticamente di evitare decisioni importanti. Il nuovo governo non solleva entusiasmi nemmeno nei territori palestinesi, nonostante la storica novità della presenza del partito islamico nella coalizione. Sia al-Fatah che Hamas hanno detto di non attendersi alcun cambiamento nella politica israeliana e negano che la sola assenza di Netanyahu permetta di parlare di governo del cambiamento. Imad Abu Awad, ricercatore presso il Jerusalem Center for Israeli and Palestinian Affairs, sostiene che dal versante palestinese prevale il pessimismo. Non è cambiato niente, la NP attende un cambiamento, ma è consapevole che nessun governo israeliano concederà mai nulla ai palestinesi.